L'alabarda è una delle armi ad asta più temute della storia europea. Appartenente al gruppo delle alabarde, l'alabarda variava per forma e dimensioni a seconda dell'epoca e della regione in cui veniva fabbricata. L'arma consisteva in una lama a un solo taglio, fissata a un'asta di legno. Occasionalmente le lame degli alabardieri venivano forgiate con un piccolo gancio sul retro per afferrare meglio i cavalieri nemici e staccarli da cavallo. Si ritiene che il gladio sia nato in Galles e sia rimasto un'arma nazionale fino alla fine del XV secolo. Gli artigli erano utilizzati da cavalieri effanti per abbattere e mutilare i nemici a distanza, ma non erano molto efficaci nel combattimento ravvicinato. Il gladio è simile alla naginata giapponese e al gran dao cinese, armi incredibilmente efficaci contro la cavalleria leggera.